Buonasera a tutti e bentornati al nostro TG di AC Milan Inside. Sembra che anche per l'ultima partita di campionato dovremo fare a meno di Mike. Durante l'allenamento di questa mattina sembra proprio che il portieri si sia infortunato ad un dito, mettendo anche a rischio la sua partecipazione all'europeo. Secondo un giornale sportivo spagnolo, Theo Hernandez sarebbe veramente vicino al suo trasferimento al Bayern Monaco. Voce che però sembra, di nuovo smentita, da Milan News. Il terzino rimane comunque uno degli obiettivi principali del club tedesco. Stefano Pioli sembra aver trovato l'accordo con il Milan per quanto riguarda la risoluzione consensuale del suo contratto e il comunicato sembra atteso per domani, anche prima della conferenza stampa. Non si parlerà dunque di esonero. Questa mattina ha iniziato a circolare una voce dal Portogallo, esattamente dal quotidiano o gioco, su Rafa Leao. Sembra che Lal Hilal abbia messo gli occhi su Rafa e sarebbero risposti a mettere sul piatto una somma a tre cifre. Ricordiamo ovviamente che Rafa è protetto da una clausola di 175 milioni. Voi in questo caso cosa fareste? Attendiamo logicamente delle novità e ovviamente ogni giorno, grazie al nostro TG, noi vi aggiorneremo. Io ovviamente vi invito sempre ad andare a seguirci e a vedere sul nostro sito acmilaninside.com tutte quante le novità.